Rispondo alla domanda chi sono io? Io sono la dottoressa Gabaldo Monia, sono un medico, specialista in genetica medica, ho lavorato presso la pediatria di Asola e la neonatologia di Mantua oggi, ma in realtà mi occupo solo dei neonati fisiologici. Questo per una grande disponibilità dell'azienda e della primaria che mi ha permesso di fare questo per poter, e anche delle colleghe, per poter poi correre a casa e continuare le terapie dei miei bambini a domicilio. Non è da tutti, quindi un grazie veramente sentito di cuore. Per quanto riguarda il mio percorso, ho fatto dalla sostituzione medico di base, il primo soccorso, ho lavorato in counseling come counselor e diagnosta di genetica medica a Bolzano, e in più lavoravo in laboratorio, quindi estremo il DNA. Quindi le mie competenze sono piuttosto varie, in quanto riesco a parlare di diverse cose, soprattutto perché le ho vissute, persino alla casa di riposo. Ora, quello che voglio dirvi è che quando vi do delle spiegazioni, non le do solo perché sono un medico, oppure perché sono la madre di tre bambini autistici, o perché sono autistica io stessa, sempre diagnosticata nel 2018, perché sono la moglie di una persona autistica, sempre diagnosticata nel 2018, o sono la figlia di una persona autistica recentemente diagnosticata. Io vi do queste informazioni perché io sono tutte queste cose, io ve le do in un certo modo perché sono comunque un tecnico, sono comunque una persona che ha studiato la fisiopatologia del cervello, la fisiologia e la patologia, che possono essere collegati, le condizioni autoimmuni associati, come per esempio nel mio caso la fibromialgia, o altre alterazioni neurionali come le ha mio marito. Insomma, o anche a livello gastroenterico, l'asse intestino e cervello, mentre altre persone possono aver letto, eccetera. Io ne ho approfondito le conoscenze in quanto medico, quindi è per questo che vi parlo in un certo modo. Allora la prima cosa che mi chiederete sempre è, ma ascoltami, come hai fatto a non accorgerti? Come ci si accorge di essere diversa da quelli che gli altri vogliono che tu sia? In realtà l'unica cosa di cui mi sono accorta è il fatto che gli altri mi trattavano diversamente, non che io ero diversa. E molte delle cose che io sono le vedo nei miei figli, quindi ovviamente non ne vedevo la diversità. Quindi, o quella che gli altri intendono come tale. Quindi rispondo come risponderebbe Derek. Chi sei tu? Io sono me.